La gestione del servizio idrico da parte di Girgenti Acque sarà il centro di una riunione che vedrà confrontarsi amministratori, dirigenti e deputati regionali e nazionali del Partito Democratico domani alle 17.30 da Grigento. Chiara la posizione del segretario provinciale del Partito Democratico, Peppe Zambito, secondo il quale l'acqua dà diritto universalmente riconosciuto nella provincia di Grigento per i comuni la cui gestione è affidata a Girgenti Acque. Sta diventando un vero e proprio problema sociale che in un momento di profonda crisi economica incide fortemente nelle famiglie in difficoltà. Secondo Zambito è inaccettabile continuare a subire una gestione dell'acqua che nonostante rivela numerose anomalie e disfunzioni risulta esageratamente onerosa. L'incontro ha l'obiettivo di individuare azioni concrete per fronteggiare una situazione ormai insostenibile in difesa dei cittadini e del loro diritto dell'acqua come diritto umano universale fondamentale che nessuna gestione privata può e deve mettere a rischio. E intanto a seguito di comunicazione del dirigente dell'ASP dei comuni di Ravanusa e Campobello di Licata con la quale lo stesso informava il sindaco di Campobello che l'acqua fornita da Siciliacque al serbatoio comunale attraverso l'acquedotto Fanaco presentava dei valori batteriologici non conformi ai parametri stabiliti e considerato che la condotta Fanaco oltre al comune di Campobello alimenta anche Agrigento Canicattie e Ravanusa in via precauzionale in attesa di conoscere i risultati delle analisi effettuate è stata disposta da Girgenti Acque, gestore del servizio idrico la momentanea sospensione della fornitura ai serbatoi dei comuni interessati. Conosciuti gli esiti dei campionamenti si provvederà a richiedere la riattivazione della fornitura idrica.